La città di Belluno si prepara a rendere omaggio al suo più celebre scrittore Dino Buzzati con quattro eventi in programma dal 3 al 10 settembre prossimi. Mostre, letteratura, musica e teatro per una rassegna intitolata Libri e Labbra che ha come filo conduttore il tema del racconto. Quattro serate organizzate non senza qualche difficoltà data la situazione contingente dall'Associazione Culturale Villa Buzzati che si terranno nella casa natale dello scrittore bellunese. Ci abbiamo creduto, è stato un percorso abbastanza complicato. Gli ospiti penso siano di grande taratura e di grande interesse quindi invitiamo tutta la cittadinanza e tutte le persone a seguirci, a venire. Abbiamo la fortuna di avere una location veramente d'eccezione. Nonostante sia un luogo privato lo riteniamo un luogo in realtà aperto e fruibile da tutta la comunità. Da 18 anni il gruppo è presente sul territorio per valorizzare Dino Buzzati e perpetuarne la memoria anche attraverso la cura del luogo che lo vide nascere. Va in questa direzione il recente restauro del tetto del granaio della villa gravemente danneggiato in seguito alla tempesta Vaia e a collaborare con l'Associazione e anche i comuni di Limana e Belluno. Ci sono gli industriali che sempre per il cinquantesimo di Buzzati in questo autunno, il 21 ottobre, faranno un convegno assieme alla LUIS su Buzzati e gli anni del boom. A marzo il Lions Club di Belluno ristampa il catalogo della mostra del 67, la prima e unica che era stata fatta a Buzzati vivente a Belluno e che era stata organizzata a Lions Club. Verrà ristampato quel piccolo catalogo fatto da Eronda e poi via viene l'autunno. Confidiamo che se arriveranno anche contributi più significativi si potrà fare qualcosa di più ampio. Ci saranno sicuramente iniziative ancora anche l'anno prossimo con l'Associazione Villa Buzzati e anche l'Associazione Buzzati quella di Feltre. non mancherà di essere presente sia su Belluno che su Feltre e per esempio a Belluno alla fine del 22 con Oltre le Vette torneremo sul Buzzati alpinista. E quindi questa carrellata di iniziative in cantiere.